Grazie Presidente. Volevo, prima di valutare se ritirare o porre in votazione l'emendamento, chiedere al Governo se nel contenuto o parte del contenuto è condivisibile, se trasformato in un ordine del giorno. Non so se il Governo vuole intervenire. Stiamo sul 4.01 catalano, a pagina 25 del fascicolo. In alto a destra. No, il parere resterebbe contrario anche su un ordine del giorno. Prego, catalano. Allora lo pongo in votazione. Bene. Quindi, 4.01 catalano, parere contrario, Commissione, Governo e Relatore di minoranza, non ci sono interventi, dichiaro aperta la votazione. Turco. Chi non ha votato ancora? Bene. Dichiaro chiusa la votazione. 121 favorevoli, 310 contrari, la Camera respinge. Adesso passiamo all'articolo 5. Chiedo alla relatrice i pareri sugli emendamenti. Possiamo utilizzare la prassi. Grazie Presidente per la sua comprensione. A parte il 5.500 che è favorevole, tutti gli altri emendamenti sono contrari. La ringrazio il collega all'Asia e poi dopo il Governo. Grazie Presidente. Il 5.1 Sottanelli contrario, 5.3 contrario, 5.4 paglia favorevole, 5.500 favorevole, 5.5 colletti favorevole, il 5.400 contrario, il 5.0401 contrario, il 5.0402 contrario, il 5.0403 contrario. La ringrazio. Governo. Conforme alla relatrice di maggioranza. La ringrazio. A questo punto siamo al 5.1 Sottanelli, pareri contrari. Chiedete di intervenire Sottanelli, prego. Grazie Presidente. Noi come scelta civica siamo stati molto favorevoli nel portare avanti questo provvedimento perché riteniamo che è un provvedimento sulla concorrenza.